io non mi raccomando ciao orsetto bianco di rinnovi saluti buona serata da caccia al vetrano a filippo diavoletto di saluta cappa ciao filippo ciao camposanto ciao trasporto marmo mi avete salutato in 50 mila ragazzi mi saluto a tutti ciao trasporto marmo ciao camposanto ciao filippo ciao a tutti non li prendo più rosario stazione 520 senti la mia chiamata ascolta filippo diavoletto a caccia al vetrano cappa cappa carolo a giro 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 domenico radio sprint senti filippo diavoletto in sosta a caccia al vetrano cappa finale cambio cambio ciao diavoletto puro a quello che attrava che vado un attimo in buca fatti la buca non ci sono problemi buonasera a tutti quanti nord Italia a filippo diavoletto in sosta a caccia al vetrano vi saluta rosario 520 ascolti filippo diavoletto qua buonasera masori sud Italia se lo dite radio sprint al porto di genova a cambio ciao bombare domenico radio sprint al porto di genova senti filippo diavoletto in sosta di castelvetrano cappa cappa carcinella salutami a rosario 520 se senti andrea domenico radio sprint ascolti filippo diavoletto a caccia al vetrano cappa buonasera a tutti in sosta di sprint porto di genova a cambio domenico buonasera a te carissimo radio sprint filippo diavoletto che ti vuole salutare qua cappa ciao filippo stasciane diavoletto ciao domenico sono riuscito a colpire la tontenna al porto di genova buona serata e ce la risentiremo filippo diavoletto città di castelvetrano ti saluta cappa cappa ascoltate canale 40 godi della grande isola se unite radio sprint ciao di a di a a di a a a a Grazie a tutti.